Le condizioni dell'Arcivesco Vorenna sono in ulteriore miglioramento e possiamo essere più ottimisti e sciogliere la prognosi. Comincia così il bollettino medico, diramato oggi dal centro cuore del Policlinico Morgagni di Pedara, dove dalla notte fra il 10 e l'11 agosto l'Arcivesco Vetteneo si trova ricoverato dopo un infarto miocardico acuto e il conseguente intervento di angioplastica coronarica. Il dottor Vincenzo Tolaro, responsabile dell'UTIC ed emodinamica della struttura, aggiunge aspettiamo la normalizzazione di alcuni esami ematologici e quindi lo potremo trasferire in degenza. Continuano intanto ad arrivare messaggi di pronta guarigione dall'Italia e dal mondo. L'Arcivescovo di Catania ha ricevuto la visita del Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti, che gli ha portato i saluti e gli auguri dei presuli, dei fedeli siciliani e del Presidente della Regione Renato Schifani. Da segnalare anche il messaggio di un vescovo della Tanzania, la cui dioce si è in stretto rapporto con Catania. In giornata Monsignor Renna ha ricevuto la visita del Vicario Generale Donne Vincenzo Branchina, del Segretario Arcivescovile Don Nunzio Schilirò e del Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Salvatore Altavilla.